The New Stories. La tua informazione libera. La sponda sinistra del fiume cerca di raggiungere a nuoto il gruppo dei ragazzi, ancora aggrappati a quell'isolotto ormai coperto da metri d'acqua. Contattati da fanpage.it. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di non essere a conoscenza dell'esistenza del video in questione e che è improbabile che durante i primi tentativi di soccorso uno di loro si sia gettato in acqua per provare a raggiungere i ragazzi a nuoto, perché nessuno è stato mandato a fare salvataggio in acqua. Altri commenti al momento non sono stati rilasciati, dato che l'obiettivo principale è quello di ritrovare Christian, unico ancora disperso dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume.